Ben ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. Sono stati trovati ieri pomeriggio i corpi senza vita di Roberto Mazzone e Matteo Pozzoli, due piloti che si trovavano al bordo del Canada precipitato a lingua glossa dopo essere stati inviati a spegnere un incendio. Uno dei due piloti, e nello specifico Pozzoli, nel 1997 aveva già rischiato di perdere la vita. Era alla guida di un CIA 208 che si schiantò sul Monte Lupone in provincia di Latina. L'uomo era stato condannato a un anno e sei mesi poiché è ritenuto responsabile della morte del collega Maurizio Poggiali, deceduto a causa dell'impatto. Era stata emessa antia una condanna secondo cui avrebbe dovuto risarcire il danno allo Stato dalla Corte dei Conti. Due anziani ultraottantenni sono stati investiti in corso gelone a Siracusa. Si tratta di due coniugi, uno dei quali non vedente, che stavano percorrendo la strada a piedi fino a quando il conducente di un'auto di grossa cilindrata li avrebbe travolti. Sul posto si sono arrecati i sanitari del 118 per prestare ai due soggetti coinvolti le cure del caso. I due sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Sul luogo dell'accaduto invece è arrivata la polizia municipale per i rilievi. Due incendi si sono verificati la notte scorsa a Gela in provincia di Caltanissetta, a distanza di poco tempo l'uno dall'altro. Il primo è divampato intorno alle 4 in piazza Umberto I, a prendere fuoco è stata la Mercedes E220 di proprietà di Nunzio Caffà, un ex consigliere comunale rappresentante di carni e salumi per una società confermata la natura dolosa. A distanza di un'ora e mezza alle 5.30 è stato dato fuoco alla sala cinesca di un negozio situato in via Salvatore Aldisio. In base a quanto emerso il rogo sarebbe stato appiccato con del liquido infiammabile di cui sono state ritrovate alcune tracce. Sono in corso per entrambi gli incendi le indagini della polizia. E in chiusura le previsioni meteo per domani si mantengono alte le temperature in Sicilia. Il cielo sarà sereno su tutta la regione con lievi annuvolamenti. Non si segnalano fenomeni particolarmente significativi per quanto riguarda mari e venti e non si prevedono precipitazioni. La protezione civile regionale non ha infatti diramato alcuna allerta meteo. È tutto per questa edizione. Il TG Flash ritorna lunedì mattina alle ore 10. Buona serata. Procar Centro Assistenza Autorizzato BMW e Mini Adesso anche BMW Motorrad Via George Marshall 7 Mister Bianco Catania Persona Assistenza Autorizzato BMW e Mini Per ora Aiuto